Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Solamente ieri è uscito il trailer di Anthony and the Wasp Quantum Mania e oggi arriva il trailer di The Guardians of the Galaxy Holiday Special. In Italia sicuramente avrà un altro titolo, probabilmente Guardiani della Galassia, speciale vacanze o speciale di Natale, comunque questo è il titolo originale ufficiale. Sarà un altro special Marvel in arrivo su Disney Plus, questa volta il 25 di novembre ed è strano che sia uno speciale di Natale, arrivi un mese preciso prima della festività effettiva. Però sono sicuramente in hype, quindi non vedo l'ora di vedere il trailer. Magari come sempre lasciate un like al video per supportarmi, iscrivetevi se vi trovate qui per la primissima volta e niente, partiamo con questa reaction. Stessa intro di Lycanthropus ovviamente. Oh, vanno sulla Terra? Ad Hollywood, tra l'altro. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. C'erano i rumor, quindi c'è. Bellissimo. Ok. Ok. Già, amo tutto. Ragazzi, che dire, non vedo assolutamente l'ora che sia il 25 di novembre, tra l'altro fra pochissimo, cioè non ci vuole nemmeno tantissimo all'arrivo di questo film. In teoria dovrebbe durare sui 45 minuti, quindi anche meno di Lycanthropus, però l'hype c'è. Sembra divertentissimo già solo da questo trailer, non penso ne usciranno altri, magari uscirà qualche altro piccolo spot, però di trailer non ne arriveranno più. Felicissimo di vedere il cameo di Kevin Bacon, c'erano dei rumor. Ci sono anche dei rumor da qualche settimana riguardo un cameo di Babbo Natale, forse interpretato tra l'altro da Mark Hamill, quindi Luke Skywalker, e vedremo, vedremo perché sì, sono davvero curioso per questo progetto. I Guardiani li adoro, non vedo l'ora che arrivi il terzo film, che sarà l'ultimo di questa formazione, almeno dei Guardiani, penso che ci lascerà qualcuno e sarà ancora più difficile dopo questo speciale di Natale, perché questo qualcuno quasi sicuramente sarà o Drax, o Rocket, oppure entrambi. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo trailer, a me è piaciuto tantissimo, dura un minuto e quattordici, è volato, è davvero corto, però se il mio interesse era già al 100% riguardo questo progetto, sia perché dietro c'è i James Gunn, ma anche perché sono i Guardiani, e anche perché è qualcosa sul Natale, io adoro qualsiasi cosa venga fatta con il tema Natale, se prima era già al 100%, adesso è al 200%, non lo so. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!